Commentatori, allora come stanno andando queste Olimpiadi? Ci stiamo facendo onore, il nostro medagliere è di tutto rispetto. Ieri sera con il pugilato abbiamo vinto un'altra medaglia d'oro con un peso veltero, un triestino, un certo benvenuto. Benvenuti? Sì, benvenuto, benvenuti. Abbassa quante forze. Buongiorno, commentatori. Uè, Giovanni, buongiorno. Abbiamo vinto un'altra medaglia d'oro, Giovanni. A vero è? Comandatore, se non vi disturbo, vi volevo chiedere una cosa. No, no, non mi disturbi. Che me volevi dire? Ecco qua. Vi volevo chiedere. Ah, c'è qua, ma io qua sto qua. Eh, sì, lo so. E lei è tanto una brava persona, a me mi sembra brutto chiederle questa cosa così. Ecco, è arrivato mio fratello Vincenzo dal paese, così, all'improvviso. Eh, io lo so che è quello che sto per chiederle. Ho capito, ho capito. Non c'è bisogno di mai avanti. Vincenzo, vieni qua. Che stai a fare, Vincenzo? So leggere e scrivere. Poi ho lavorato alla bottiglia di Don Carmelo per due anni, al mio paese. Quindi so attaccare i chiudi e ingolare la tavola. E che facevi? Becca a voi. No, 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 no. Grazie. Grazie. Grazie.